Inizia a recitare quattordicenne nella miniserie televisiva Ophiria diretta dal padre, il cineasta e produttore Tommaso Dazzi. Ma il debutto vero e proprio è 1987 in La famiglia di Ettore Scola, ricoprendo il ruolo da giovane del personaggio interpretato da Stefania Sandrelli. Durante le riprese del film incontra Ricchi Tognazzi, che la dirigerà in Fernanda. 1987, uno dei sei episodi della serie televisiva Piazza Navona. Nel 1989 si trasferisce a New York dove studia recitazione all'Al-HB studio con Herbert Berghoff. Tornata in Italia diventa poi assistente di Carmelo Bene. Raggiunge la notorietà in Italia con le prime due stagioni della serie I ragazzi del muretto. Da quel momento si aprono per lei le porte del cinema del teatro e della fiction televisiva. Deborah, il personaggio interpretato nella serie, nella seconda stagione riesce a diventare attrice grazie ad un provino per la pubblicità di un Gelato. Curiosamente, dal 2003 al 2005, Cecilia sarà testimonial del Gelato Carte d'Or negli spot girati da Paolo Genovese e Luca Miniero. È successivamente impegnata con Miracolo Italiano, 1994, di Enrico Olduini, che la richiamerà due anni più tardi per la fiction Dio Vede e Provvede. Sempre nel 1994 recita nella sua prima produzione internazionale per il ciclo per la televisione. Storie della Bibbia, è Bila in Giacobbe di Peter Hall. Passa poi ai cortometraggi, Cecilia Calvi la dirige in Mirko e Caterina. 1995, accanto a Valerio Mastandrea, che poi ritroverà in un inverno freddo freddo. 1996, di Roberto Cimpanelli e la classe non è acqua. 1996, sempre di Cecilia Calvi. Il rapporto con la musica è parte della sua carriera artistica. Nel 1997 firma infatti Le Parole di Capelli, brano con cui Niccolò Fabi vince il premio della critica per la categoria Nuove Proposte All. Festival di Sanremo e Lasciarsi un giorno a Roma. Dall'album Niccolò Fabi del 1998, con cui il cantante si classificherà ottavo al Festival di Sanremo dello stesso anno. Cecilia collaborerà anche con il compositore e autore Fulvio Binetti firmando alcuni testi. Dell'album di esordio di Niccol Barsanti La chiave del sole. Prodotto da Giovanotti. Assieme ad Emiliano Duncan scrive il testo di Farei di tutto per Giorgia. Contenuto nell'album Spirito Libero Viaggi di voce 1992-2008. Spesso ospite al Maurizio Costanzo Show. In quegli anni arriva per lei il riconoscimento della critica. Per il ruolo di Sandra in Matrimoni. 1998. Di Cristina Comencini raccoglie la nomination ai nastri d'argento e vince il David di Donatello. Come miglior attrice non protagonista. Entra nel cast delle prime due stagioni della serie televisiva La Squadra. 2000-2001. Aumentando ancora di più la sua popolarità. Tornando poi al cinema prima con Caruso. Zero in Condotta. 2001. E poi con Emma Sono Io. 2002. Nel primo film è diretta da Francesco Nuti. Nel secondo. Diretta da Francesco Falaschi al fianco di Marco Giallini e Pier Francesco Favino. Interpreta Emma. Una ragazza dalla doppia personalità in una commedia romantica che le vale il premio Flaiano e il. Premio Gallio come attrice protagonista. Nel 2003 il regista britannico Richard L'Oncraine la dirige in My House in Umbria. Film HBO con Maggie Smith e Chris Cooper. L'Oncraine la fa parire anche nella commedia sportiva ambientata nel mondo del tennis Wimbledon. 2004. Con Paul Bettany e Kirsten Dunst. Due anni dopo viene scelta da Nanni Moretti per il loro ruolo di Luisa compagna del personaggio di. Yasmine Trinca nel controverso successo Il Caimano. 2006. E nello stesso anno riceve una menzione speciale ai nastri d'argento come miglior interprete. Femminile per il cortometraggio di Stefano Chiodini sotto le foglie. Nuovamente in coppia con Valerio Mastandrea. Ha condotto per due stagioni il programma La Valigia dei Sogni. 2007. Su L7 in coppia con Sabrina Impacciatore. Presentando un'anteprima dei film e svelandone curiosità e retroscena prima della messa in onda. In quel ruolo ha spesso intervistato attori famosi che avevano lavorato nei film presentati ed ha. Mostrato come sono oggi luoghi in cui furono girati. Nello stesso anno voce del verbo amore di Andrea Manni la mette al centro del tira e molla tra. Giorgio Pasotti e Stefania Rocca. E ancora viene chiamata per il film britannico Uragano. 2007. Con Robert Carly Leigh e Salingilzig. Chi arriverà in Italia come miniserie in un'unica puntata su Rai 1. Nel 2008 rientra nel cast della squadra per l'ottava stagione e gira la miniserie tv in 12. Puntate amiche mie insieme a Margherita Bai. Luisa Ranieri ed Elena Sofia Ricci. Torna al cinema poi il sodalizio con Federico Moccia con scusa ma ti chiamo amore. 2008. E continua nel sequel scusa ma ti voglio sposare. 2010. Nel 2011 per lei c'è una nuova produzione internazionale. Compare infatti in Irrito girato a Roma dallo svedese Mikael Avström con Anthony Hopkins. Lavora di nuovo con Anni Moretti in Abemus Papam. 2011. Dal 2011 al 2015 si divide tra Radio a Radio 2 conducendo il programma radiofonico sul cinema. Nessuno è perfetto. Cortometraggi tra cui La casa di Esther. 2012. Di Stefano Chiodini e La legge di Jennifer. 2012. Di Florinda Martuccello per i quali riceve la seconda menzione speciale ai nastri d'argento. Vincendo il corto d'argento, e cinema con bianca come il latte. Rossa come il sangue. 2013. Di Giacomo Campiotti. Torna in televisione con un ruolo di rilievo nella seconda stagione di Una pallottola nel cuore. 2016. Tra le curiosità, ha brevettato e realizzato in collaborazione con Enrico Alboni. Un particolare cuscino adatto a donne con il seno voluminoso o affette da mastopatia. Torna in televisione con un ruolo di rilievo nella seconda stagione di 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 un ruolo di r